Ciao ragazzi, Cersa canale Bellavì, incredibili dichiarazioni di Buffon alla Bobo TV, sappiamo che Buffon è il più grande portiere del mondo, ha detto che per lui sono 6 i calciatori italiani più forti tecnicamente della storia, Totti Del Piero, Pirlo, Roberto Baggio, Cassano, Antonio Di Natale. Incredibile che Cassano, molto underciver rispetto agli altri 5 che ho detto, sia messo come uno dei giocatori più forti della storia del calcio italiano dal punto di vista tecnico, cosa ci fa rendere conto di quanto sia stato forte Cassano, di quanto abbia fatto capire di che pasta era fatto ai suoi compagni di squadra ed ex compagni di squadra e di quanto avrebbe potuto fare nel mondo del calcio. Vi invito ad andare a vedere i suoi video, i video della Bobo TV con Buffon molto interessanti e iscrivetevi al mio canale ragazzi, vi chiedo un'iscrizione, non seguite soltanto chi urla e sbraita ma seguite anche chi fa analisi lucide su calcio nazionale e internazionale.